Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Crusader Kings 3. Ritorniamo alla corte di Macedonia, perché c'è tanto da costruire e tanto da fare in questo episodio per sviluppare il nostro regno che è stato lacerato da una guerra interna. Allora, iniziamo guardando se possiamo migliorare le strutture di Arta e la risposta è sì. Lo possiamo fare, ad esempio possiamo migliorare i campi della nostra capitale, poi andiamo a Creta che è la nostra isola più importante dopo la capitale, vediamo che ci sono ancora addirittura uno slot libero, possiamo fare dei Pastoral Land a Cania e a Eraclio. Possiamo andare a fare i campi di caccia che ci danno più denaro, più leve e anche... Eh no, questo però è per la Light Cavalry. Penso di cambiare, penso che cambiare idea. Farò anche qui Pastoral Land, sempre per il denaro e le leve. E quindi partiamo investendo tanti tanti soldini per migliorare le strutture del nostro regno. E poi diamo un'occhiata pian piano per vedere che tipo di guerra possiamo fare. Ok, il gioco ha deciso che non diamo un'occhiata perché in guerra ci entriamo dal momento che Trifone ha attaccato il nostro alleato che è il Duca di Achea. Noi accettiamo di andare a difendere e vediamo che cos'è questa cosa. Quest'uomo... Wow! Non sono pochi gli uomini che attaccano il nostro alleato. Ma adesso noi mettiamo insieme tutti i nostri 1800 uomini, li facciamo guidare da un buon generale e poi andiamo a dare una mano. Clicchiamo e... Cavallarius, non vorrei che morisse. Innocenza è la nostra bodyguard. Leone di Tessaglia è un buon generale e anche un Powerful Vassal pericoloso. Ragione per cui lo metto in prima linea perché non si sa mai cosa che può succedere. E noi possiamo poi chiamare la corte. Iniziamo questo episodio chiamando la corte. Eccoci qui. Allora, Crisafiudy e Zavuli. Che cosa vuole fare? C'è un figliuolo, un bambino, che è stato nella corte di Zenobia a lungo ma nessuno se ne prende cura. E Nexavuli è da figlio di Adriano che è in prigione e di Sibilla. Ok, gli diamo come award di Patia, il nostro medico di corte, sarà lei ad educarlo. Ciao Crisafiudy, è stato bello conoscerti. Secondo, secondo, come si può dire, Cahier di oggi. Il nostro alleato, un tempo il Forte Alessio, arriva annunciando... Oh. No, arriva non annunciato alla Sala del Trono coperto di sterco. Ok. Il Duca Alessandro di Cappadocia. Ah, gli ha rubato tutti i titoli. You're among friends, I shall appoint you my cupbearer? Fammi vedere un attimino. Quest'uomo quindi è Clems la Cappadocia, che è un Ducato. Il cupbearer che cosa comporta? Allora, il salario è di 0,3 Ducati al mese. Aumenta la grandeur da più 5, più 15, dipende dall'attitudine. E aumenta la grandeur. E c'è una possibilità di fermare gli assassini. Ok. Avere un cupbearer ci darà più 0,5 prestigio. Facciamolo. Poiché lui comunque ha delle buone relazioni con noi e noi abbiamo i soldi, possiamo permettercelo, miglioriamo la nostra corte. E poi esposizione della collezione del Despot Andronico. Ok. Possiamo chiedere al popolo di vedere i nostri artefatti pagando. Oppure facendolo gratis per 3 anni guadagniamo un 10% di prestigio in più. Chiediamo che vengano pagati, così guadagniamo qualche soldo. Dai. Adesso chiudiamo questa schermata. Torniamo alla guerra perché c'è tanto da fare. Qui ci sono 1900 uomini addirittura. Ok. Aspettiamo che il nostro alleato ci porti le sue truppe in modo che poi possiamo attaccare e liberare Atene dall'assedio. Tanto c'è anche un assedio qui a nord. No. Qui rischiamo di perdere. Attacchiamo questi 1125. Che sono gli alleati del nostro nemico a Corinto. Atene la perderanno ma va bene, pazienza. Qui intanto c'è la possibilità di vincere una battaglia e lo facciamo. E poi andremo a salire magari. Ok. Battaglia di Argo. Le picche qui non servono a nulla. Il controllo d'antipatria è stato portato al massimo. Andiamo a Verna a fare la stessa cosa. Nasce un figlio. Nasce un figlio che potrebbe essere Zaccaria di Macedonia. Accettiamo. È il terzo genito. Che significa adesso la cosa seguente. Alla successione. Quando morirà l'attuale sovrano. Alessio diventerà re de Piro. Zaccaria diventerà duca di Creta. E il nostro arede diventerà soltanto despota di Macedonia. E la Macedonia ha l'Epiro, Nicopoli, Tobruk ed Erna. E un po' di Africa. Quindi il regno si spezza in tre parti. Ovviamente poi dovremmo evitare che questo accada. Ma questo è un altro paio di maniche. Va bene. Intanto qui abbiamo vinto una battaglia. Guadagnando un bello zero. Probabilmente abbiamo attaccato dei rider. Chi lo sa. Sicuramente non è stato utile. Ok, adesso l'attica è caduta. Enemy pun. Nella battaglia di Corinto abbiamo stravinto. E Leone è tornato. Mio signore. Gli nemici che rimangono hanno fatto un ultimo... Come dire? Hanno cercato di proteggere il loro standardo. Il war banner di Messena. Messenian. Che ci darebbe più prestigio, più reinforcement grandeur. Va bene. Lo possiamo ottenere noi? Oppure possiamo trasformarli in 75 prestigio? Da un momento che non possiamo metterli tutti a corte, visto che abbiamo già appunto questi... Abbiamo già le pareti piene. Lo bruciamo e guadagniamo 75 prestigio. Può sembrare un peccato, ma in realtà... Scusate, devo tornare in Eppio io? Perché questi mi prendono il mio territorio adesso. Oh no. Fermi tutti, perché qui in Beozia rischiamo grosso. Vai che si imbarcano questi pistolotti. A questo punto andiamo ad assediare di nuovo l'attica. E cerchiamo di liberare Atene. Sei mesi serviranno. La fortuna di un uomo libero. Gennadio... Wow! Gennadio è un ottimo, ottimo, ottimo steward. Sì. Ha avuto un... È semplicemente un agricoltore molto bravo. Ha fatto anche un raccolto incredibile. Possiamo dare la contetta di Shandax. Dov'è? No, sai cosa c'è? Vini a corte, amico. Vini a corte perché gli assegneremo un ruolo, questo uomo. Gennadio. Magari lo facciamo sposare subito. Con una donna della mia corte, vediamo un po' se c'è qualcuno con dei tratti. Allora, lui ha 29 anni. Andiamo partendo dalle più giovani e arrivando alle più anziane. Epifania, per esempio, è quick. Brave, cynical, compassionate. Poi potrebbero avere dei figli che hanno la stessa caratteristica. Vai, va bene. Facciamo un matrimonio, quindi ci sarà questa nuova coppia di cortigiani. e avranno poi dei figli. Un alleato non è più in guerra? Come succede? Il loro livello di forti è troppo alto. Sta guarda sarà bella difficile, eh. Ci siamo infilati con l'alleanza ad Atene in una situazione difficile. Ok, nel frattempo è morto il nostro cancelliere. Vediamo se Photios è più bravo come cancelliere. Quasi quasi potrei mettere Photios come cancelliere. Che è un 10. Al posto di un 13. O semplicemente fregarmene. Anastasia di Irapetra. Oppure Agne di Vivo Inizza. Mettiamo Agne. E finalmente possiamo cambiare Photios se non ancora. Di due scatole. Niente. Togliamo la pausa. Non sono contento ma va bene così. Va bene così ragazzi. Facciamo finta di nulla. Eh, voglio... Trifon vuole diventare Duca di Atene. C'è la volentà di cambiare il Ducato di Atene qua. Che magari attendere può essere utile per noi, però... Io ho tenuto l'alleanza con Atene proprio perché pensavo che fosse un alleato stabile. D'aiuto in caso di guerra interna. Invece si è rivelato un alleato instabile. Però abbiamo vinto l'assedio e adesso abbiamo riportato la guerra in pareggio. Ok. Allora, Arsenio e Rodante si possono sposare. Accettiamo. Adesso spostiamoci in Beozia nella speranza che qualcuno venga in soccorso nostro perché... No. Preferiscono farsi gli assedi a vicenda, queste invece che fare combattimenti in campo aperto. Niente, aspettiamo sulle colline della Beozia. Se queste ci attaccano almeno siamo in difensiva. No, semplicemente si imbarcano. Cosa che io... Fatico veramente a capire, ma va bene. E noi adesso riprendiamo il... Il mal tolto. Ci mettiamo soltanto tre mesi, quindi... Capite. Rendiamo inutili gli assedi della fazione nemica senza ingaggiarli in campo aperto, mentre i nostri alleati fanno il lavoro sporco e cercano di prendere i punti da utilizzare poi durante il tavolo delle trattative. In particolare adesso la Laconia. Ma qui ci sarà uno scontro, però. Qui ci sarà uno scontro. Qui ci sarà probabilmente uno scontro, perché ci sono eserciti troppo vicini l'uno con l'altro. Cerchiamo di causarlo, in modo che ci sia un cambio netto. Perché questi... Ma cosa stanno facendo? Perché vanno per mare? Cosa? Lo Jarl di Crimea, Ulfr, ha attaccato il Basileus. E lo Jarl di Crimea ha già mille uomini. Non ci credo, signori. Ci sono i vikingi di Rus, da Rus di Kiev a quello che è, che vogliono prendere la Caldia e dichiarano guerra all'impero bizantino. Questo è incredibile. Questo è incredibile. Ok, Panterio viene e ci chiede qualcosa. Ah, semplicemente vuole inginocchiarsi. Grazie. Ok, battaglia in campo aperto, finalmente a Corinto. A difendere abbiamo Leona di Tessalia, come sempre. Ed Eufemio finalmente è maggiorenne. Ok, they grow up fast. Purtroppo è scarsissimo, perché è un Naive Appeaser. Aumenta soltanto i due punti la diplomazia, che tra l'altro non è il suo tratto prediletto. Sarà un sovrano scarso, scarso, scarso. Gli assegniamo. Allora, chiudiamo questa guerra per poi fare la distribuzione dei panni dei Ducati. Ho bisogno degli alleati qui, perché sennò finisce malissimo. Qui finisce malissimo se non intervengono immediatamente. Ma tipo subito! Perché mi trovo a fare delle guerre in cui... Mamma mia, devo pagare io per questi idioti. Ok, ritorniamo in Capitale e non partecipiamo più. Me ne frega veramente poco. Noi abbiamo troppi Ducati. In particolare Creta, che però è nostra. Creta è il tesoro di famiglia e questo lo teniamo. E Piro, qui sopra. Cefalonia. E Shandax. No, Shandax, scusate, è una contea. Cefalonia, Butrotum e Cefalonia stessa, che noi non possediamo. Però noi adesso daremo il titolo di Ducati di Cefalonia a nostro figlio. Non si può. Ok. Va bene, allora... E allora... C'è poco da fare. Gli assegniamo Tobruk. Lo facciamo diventare principe di Tobruk, in modo che abbia un titolo nobiliare, ma... Poveretto, cioè. Sembra quasi... Cioè, mandarlo a Tobruk. Tra l'altro, se non sbaglio, ecco qua. Adesso il Nord Africa è diventato ortodosso perché Bisanzio ha provveduto. Queste sono terra adesso cristiana ortodossa. Bellissimo. Dovremmo tornare a spingere in Egitto, ma quando? Chi lo sa? Allora... Dove... Non ci interessa granché. Va bene, dai. Togliamo la pausa. Ritorniamo. Qui abbiamo portato al 23% la... Cosa? Ah, ok. Il Duca Giovanni era contro il Basileus. C'è una strega. Possiamo guadagnare 360 Lifestyle, guadagnare stress. Sì. La rilasciamo per questo boost. Popular Opinion per 5 anni meno 25, ma non mi... No, siamo zelos. Guadagneremo troppo stress. Possiamo bruciarla. Possiamo brutarla a corte. Bruciamola. Guadagniamo lo stress, ma guadagniamo anche la fede. E 300 punti di esperienza sarebbero stati seriamente utili, ma... Non possiamo fare altrimenti. Allora. Slocchiamo il 30% di sconto nel tempo di costruzione. Questo ci permetterà di continuare a costruire la nostra terra come si deve. E poi quando saremo in pace, torneremo a guadagnare tanti bei soldini. Ok. Togliamo la posa, riportiamo la velocità a 4. Portiamo le truppe ad Arta. E adesso aspettiamo che... Aspettiamo che la guerra finisca. Questi sono sbarcati oppure no? Chiedo scusa. Perché mi continuano a girare per casa dopo essere sbarcati? No, 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 no. Non sono sbarcati. Vabbè, a questo punto siamo qua. Aiutiamo l'alleato, dai. Abbiamo catturato il maresciallo, tra l'altro, dei nemici. Questa guerra dovrebbe finire in fretta. E dovremmo guadagnare prestigio. Cioè, in realtà già l'abbiamo guadagnato con tutte queste battaglie, però. Hamlets arrivano. Benissimo. Hamlets sono davvero importanti perché... Anicopoli... Vediamola qui. Significa che adesso le nostre fattorie ci danno un 08 di tasse. Tanta roba. Vittoria. Vittoria di Sven Hall. Adesso guadagniamo 11 ducati, che non è male. E appena possibile miglioreremo anche i pascoli della capitale. Possiamo commissionare qualcosa. Ok, vediamo un po'. Un goblet. Un... Un calice. Se proprio devo dirla tutta. Se proprio devo dirla tutta. Quanto ci costa? 91. No, sapete che cosa vorrei tanto? Ma che cosa vorrei veramente tanto? Vi faccio vedere. Che cosa manca qua? Manca un'armatura. Manca un'armatura... L'armatura di Macedonia. Visto che abbiamo la corona... Che ha fatto il nostro nonno. La mazza di Eufemio. Di nostro padre. Il masterwork... Lo scettro. Qui ci manca l'armatura, dai. E poi abbiamo il trinket che possiamo regalare a un figlio. Mi sono dimenticato. Comunque io continuo a dire... Ho continuato a mescolare la Chia e l'Atene. Perché va bene. Sono vicine, ma l'Atene, che è in Attica, non è sotto il controllo di Luca di Achea. Infatti Luca di Achea è molto vicino a noi. Giovanni di Atene, che tra l'altro è membro della nostra famiglia perché è un cugino. No. Quindi noi potremmo tentare di prendere anche il controllo di Atene, volendo. E probabilmente questa sarebbe la soluzione migliore da fare mettendoci Panterio. Che è un nostro vassallo. E in particolare il Conte de Toglia. Quasi, quasi. Quasi, quasi. Già che ci siamo. Visto che il prestigio ce l'abbiamo. Dichiariamo guerra. Il Basileo manco se ne accorgerà, dai. Iniziamo a marciare con 1700 uomini. 1800. Poi dovremmo migliorare le leve perché non abbiamo più fatto caserme, ma... Per il momento questo è quanto. Parte l'assedio. Mettiamo sempre il nostro generale Anastasio, che velocizzerà gli assedi. Adesso impieghiamo sette mesi. Prima forse erano otto, non ricordo più. Non voglio investire il denaro che ho appena ricevuto dal nostro capo religioso, perché siamo in guerra. Ma appena finiamo... Ok, abbiamo messo in gabbia i contesi d'oro. Enforced Demand. La Beozia adesso diventa... Ecco, ho preso la Beozia, infatti, non ho preso Atene. Però pazienza. Atene è la prossima ed Atene è sotto l'Achea. Ma allora, scusate... C'è stata un po' di confusione nello spiegare alla geografia qua. Sono riuscito a mettere Panterio e toglie Beozia. Va bene. Quindi Atene rimane correttamente sotto Crisafio II. Va bene, ok. Quindi qui guardiamo la mappa dell'Achea. Atene, Patras, Caritaina e Mistra. Queste quattro città sono in mano al nostro alleato. Sarebbe bellissimo poter dire a richiedere il claim, però non ci viene dato. Perché? Perché... Il patriarca ci vuole bene, ma non abbastanza. Il claim sull'Egeo. Pure. E per non parlare del resto, perché vabbè. Ok. A questo punto... A questo punto io vado a mettere il Neo Steward, a fare... Aspetta, aspetta, aspetta... Increase Development. Lo facciamo a Nicopoli. Perché facendo così non soltanto miglioriamo lo sviluppo, ma possiamo costruire più rapidamente le strutture. Infatti, posto che due anni, adesso ci mettono nove o dieci mesi a essere costruite. Quindi adesso andiamo a riempire le strutture della nostra capitale al massimo. Facendo questo trucchetto. Ok. Guadagniamo meno soldi, ma... Però è più efficiente. Va bene. Va bene. Ransom. Ok. Abbiamo anche il Duca di Cirenaica. E il Duca di Tessalonica, che possiamo creare. Rilasciamo i prigionieri. Quelli che possono pagare, chiaramente. E abbiamo vinto la guerra contro i vichinghi. Yes. Ok. Già che ci siamo, andiamo a parlare al nostro grande capo. Non possiamo chiedere praticamente nulla, se non... Se non un Resettlement Subject. Vediamo se accetta. Allora, dice che va bene, ma... Dobbiamo pagare 95. Va bene. Paghiamo i 95 Ducati per avere uno sviluppo della capitale. Che adesso, tra l'altro, dovrebbe essere bella sviluppata, se non sbaglio. Eh, development 15. Development 15 non è affatto male. Guardiamo la mappa dello sviluppo, per favore. Guardate che meraviglia. Guardiamo il Mediterraneo. La nostra capitale inizia a spiccare. Inizia a spiccare, ragazzi, Arta. Chiaramente Costantinopoli, con uno sviluppo di 22, è una città molto più ricca, ma ci mancherebbe altro. Però 15 non fa schifo. Roma, per esempio, è 28. Pavia, che è stata capitale dei Longobardi, è 11. Cordova, la città più ricca di Spagna, in mano agli Omaiadi, 26. Bagdad, 22. Insomma, no, no, ce n'è, ce n'è, ce n'è. Andiamo bene. Fa piacere vedere la Macedonia che inizia a diventare più ricca. Quindi noi adesso ci avviciniamo. E un'altra cosa che volevo fare, a mezzo ovo, dovrei avere la possibilità di migliorare queste viniere. Quindi tasse e via. Miglioriamo le viniere di mezzo ovo. Andiamo anche ad inginocchiarci di fronte al Basileus. E secondo me, tra non tantissimo, dovremmo essere in grado di sbloccare una prossima dinastia. Guardate, 8 punti. Yeah! Forza. Benissimo, benissimo. Wow! Per la prima volta dopo tanto tempo, il nostro regno torna in pace. E la cosa mi fa molto piacere. Allora, c'è un despot sconosciuto. Che è sta cosa? Devo leggere. Allora, questo evento praticamente è legato al fatto che non siamo conosciuti. C'è a corte un artigiano che è arrivato, questo di Tu, e non ci riconosce. Fa una grande figura di M perché non capisce che siamo noi il despota. Possiamo semplicemente sfruttare, metterci un po' di soldi per garantire più 6 grandeur, oppure semplicemente dire, vattene dalla mia corte, guadagniamo un po' di prestigio e guadagniamo un po' di rinone. Io faccio questa cosa perché tanto dell'opinione di Tu ne ne faccio una ragione. E finalmente, con quei 25 punti, come vi dicevo, possiamo aprire la dinastia. Allora, so che ci sono tantissime dinastie che vi piacerebbe vedere in gioco. Lo so. E vi assicuro che le vedremo. Il mio obiettivo è sempre stato all'inizio quello di andare sulla Resilient Bloodline perché ci dà meno 30% di chance di ereditare dei tratti congeniti cattivi e meno 30% di possibilità di svilupparne di nuovi. Questo significa che i nostri figli in futuro dovrebbero avere... No, anzi, sapete cosa facciamo? La cambiamo. Perché in effetti già avere un 30% in più di tratti buoni aiuta e la possibilità di togliere le malattie della linea, questa non la voglio. Allora, fatemi leggere bene tutto. Ho deciso di fare una cosa diversa, guardate, ce ne sono tante di possibilità. La custom ci darebbe più bonus con un regno multiculturale, più possibilità di imparare le lingue. Warfare, non ve lo dico nemmeno, ci migliora la capacità in battaglia. Legge, aumenta l'opinione di tutti e ci scontra nel 30% le cacce e le feste. Poi potremmo andare anche su Faithful Magistrate che ci sconta la creazione dei titoli e ci dà uno 0,2 controllo al mese, che secondo me anche questo è molto forte. Power and Prosperity ci sconta la creazione di strutture. Se invece prendiamo Erudition abbiamo all'inizio un'opinione di più 10 di cortigiani e ospiti, più grandeur e ospiti migliori arriveranno a corte. Tra l'altro scontati, dopodiché con Ordained Rulership avremo la possibilità di guadagnare un 10% in più di pietà e opinioni del clero. Alla fine Treasure Knowledge ci dà un 20% in più di sviluppo e Learning Lifestyle più 10%. Mi piacciono sia l'Erudizione sia la legge. Dal momento che come re di Macedonia, in questo momento, il nostro despota è stato un costruttore, un architetto, cioè che ha cercato di dare ordine a quello che hanno fatto suo nonno e suo padre, io vado a prendere legge che al momento non è fortissimo, però aumenta di 5 l'opinione popolare, ci sconta la possibilità di andare a caccia e fare feste, e soprattutto quando arriveremo al secondo livello avremo una crescita del controllo che sarà molto utile per il resto di tutta la partita, quindi dai, dopo sangue prendiamo legge per la casa Exavulis. Togliamo la pausa, adesso abbiamo fatto una costruzione nella nostra capitale, torniamo lì per vedere quanti soldi ci servono per la prossima. Ok, andiamo a vedere se in prigione c'è la possibilità di fare qualche soldino. D'accordo, qui Gennadio è morto, il nostro cugino e vassallo Artemio con i claim sull'isola Egeo non può essere più utilizzato. Questa cosa non la capisco perché io in realtà, in realtà, forse qui ho fatto un errore, ma... No, posso farlo, caspita. Sapete che secondo me era un bug? Vi ricordate che io potevo aprire la guerra, la pagina della guerra, ma non riuscivo a vedere che tipo di objective, che tipo di world goal potessi scegliere? Adesso lo vedo. Allora, non abbiamo il prestigio per fare partire questa guerra, ma abbiamo la possibilità di far partire una festa, tra l'altro scontata, e magari in questa festa un po' di prestigio lo guadagniamo, chi lo sa. Io per ora vi ringrazio per essere rimasti con me. Ci diamo appuntamento al prossimo episodio, che potrebbe essere un altro episodio, in cui l'influenza degli Esavuli si espande maggiormente, questa volta anche sull'Egeo, e poi, signori, la Grecia sarà sempre più, sempre più a portata di mano, mettiamola così. Curiosissimo di vedere come andrà, per ora però vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di lasciare un like e vi do appuntamento alla prossima.